I primi tir e furgoni con le attrezzature sono comparsi stamani di buon'ora in piazza Ciardi, poi attorno alle 10 si è visto anche lui. Leonardo Pieraccioni ha girato oggi nella nostra città le prime scene del suo nuovo film, il tredicesimo della carriera. Le riprese si sono tenute al PIN dove sono stati allestiti i camerini e registrate diverse scene. Se son rose, il titolo della pellicola che uscirà nei cinema il 29 novembre, è proprio con un mazzo di fiori in mano Pieraccioni ha fatto il suo ingresso al polo universitario pratese in una delle prime scene del film. Siamo uscite dalla porta e per ora abbiamo fatto solo questo. Leonardo come si è comportato nella direzione del cast? No, è carino, ci ha fatto qualche battuta, sì. Sì, ci ha rimproverato dicendoci che se la scena veniva male era colpa nostra. Però è stato carino, ecco, sì, sì. In se son rose, Pieraccioni interpreta Leonardo Giustini, un giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web, che a causa di una provocazione della figlia adolescente torna in contatto con alcune ex fidanzate. Assieme a lui, tra gli attori, figurano anche Maria Sole Pollio, Claudia Pandolfi, Caterina Murino, Gianluca Guidi e Alessandro Paci. È stata la prima scena appunto della bicicletta e come seconda scena hanno girato giusto nell'ingresso qui della scuola con appunto Alessandro Paci che faceva da custode con il quale Pieraccioni ha uno scambio di battute comiche perché gli indica, da quello che ho sentito, gli indica la via della Lamagna dove poi si articolerà la scena principale. Tanti pratesi selezionati tra le comparse durante il casting a Officina Giovani compariranno nelle riprese che si svolgeranno interamente in Toscana per sette settimane tra Prato, Borgo San Lorenzo, Scarperia, il lago di Bilancino e nella zona del Mugello. Tu sei tra le comparse e questo è un oggetto di scena? Per provare ad andare a braccio nel film, magari se invece di andare a copione provavo a improvvisare. Mi sono fatto male il motorino però ho colto l'occasione per fare il casting. È una passione sia per Acioni che Prato che non vedo perché non coglierla. Da cosa ti aspetti da questa esperienza? Intanto di divertirmi e poi di scoprire tutto quello che c'è dietro il cinema. Ad esempio hanno già ripetuto una scena 10-15 volte. Farai la parte di una studentessa, lo sei anche nella vita? Sì, lo sono qui in questo polo universitario, quindi ormai conosciamo bene questo posto. Siamo un po' emozionate perché insomma tutte queste telecamere, tutta questa gente insomma alla fine è un po' quello che stiamo studiando, quindi insomma ci rapportiamo con la realtà, è anche utile insomma. Cosa studi? Studiamo appunto qui al Progeas che sarebbe progettazione e gestione di eventi di imprese dell'arte e dello spettacolo, quindi insomma un po' di spettacolo magari fa bene. Grazie. 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 Grazie.